I quattro motivi per cui le agenzie utilizzano WordPress e perché non vogliono che tu li sappia. 1. Riduzione dei costi. Avendo una base di partenza già sviluppata, si riducono drasticamente i tempi di sviluppo e di conseguenza i costi. 2. Massimizzazione dei profitti. Spesso per l'aspetto grafico di un sito internet, le agenzie acquistano template grafici per pochi decini di dollari. Puoi capire quali sono i margini rispetto al costruire una grafica totalmente su misura studiata per la tua azienda. 3. Mancanza di programmatori. I programmatori sono delle figure professionali sempre più rare e ricercate. Non è semplice trovare degli sviluppatori bravi. Ad oggi i ragazzi che hanno seguito un percorso di studi legato all'informatica e alla programmazione vengono subito reclutati dalle grosse multinazionali. Questo rende difficile alle agenzie integrare nuovi sviluppatori all'interno del team. 4. Manutenzione e rinnovo. Un sito web che richiede manutenzione e aggiornamenti costanti o che necessita di essere rifatto dopo pochi anni è un business. Sai un po' come succede per gli dispositivi elettronici. La prossima volta che dovrai realizzare un sito web per la tua azienda, pensaci bene prima di scegliere WordPress. 4. Manutenzione e rinnovo.